oggi proverò con voi gli acquerelli della lucas questa è la linea studio quindi per non addetti ai lavori però la marca lucas è una marca molto conosciuta nell'ambiente artistico e comunque degli acquerellisti quindi ora li provo insieme a voi per la prima volta e ne trago un po di conclusioni salve io sono maria cristina sono un architetto ma sono anche un maestro d'arte questo è il canale archidream un canale dove si parla di disegno di lavoro e in particolare del lavoro dell'architetto ecco come si presenta la custodia e in cartone all'interno ci sono 12 demigodè la scatolina in plastica e all'interno in dotazione c'è un pennellino di misura 4 pennello appuntatore con il logo della casa produttrice la prima impressione è che non sono rivestiti non sono ricoperti anche la linea studio di altre marche di solito presenta i mezzi godè con un imballo per esempio questa è la prova colori di un altro set della made in e ho ottenuto da parte gli imballi l'incarti di ogni di ogni mezzogodè eppure la made in è una marca comunque cinese invece la lucas è tedesca ho deciso di comprare questo set perché avevo quello della windsor e newton sempre linea studio e dopo veramente un sacco di anni di onorato servizio mi sta per abbandonare quindi volevo provare un'altra marca iniziamo a fare le prove colore questo è giallo limone questo è giallo di cadmio questo è rosso di cadmio io li sto mettendo in purezza direttamente dal dal god e non si dovrebbe fare così però mi sembra omogeneo nonostante il fatto che non mi scegli il colore con l'acqua da parte mi dà comunque una stesura piena di colore è abbastanza omogenea vedremo ora che si asciuga questo è un magenta non potete immaginare quanto sorrido in questo momento per i colori finora provati non mi aspettavo questo azzurro così chiaro questo è un ciano dalla cialdina sembrava un po più scuro invece è come se ci fosse molto bianco questa è la mia impressione una volta attivato si è schiarito tantissimo questo invece è blu oltremare questo mi aspetto che faccia granulazione ma vedremo come quasi tutti i blu oltremare per dirvi questo è della made in vedete che effetto mi fa mi aspetto questo anche da questo pigmento qui perché è tipico di questo colore poi un verde prato non mi sembra proprio un verde prato devo dire la verità mi sembra più smeraldo questo è un verde oliva e devo dire che la presenza di questo verde mi ha molto convinto a comprare questo set perché ha una tonalità che io uso tantissimo poi c'è un giallo ocra immancabile rosso inglese rosso inglese ecco qua terra d'ombra naturale poi c'è grigio di pen che è un altro colore che mi ha fatto scegliere di comprare questo set invece di ricomprare il mio amatissimo comunque amatissimo set windsor e newton questo qua sempre da viaggio che mi avete visto in tantissimi video perché il grigio di pen è ottimo per fare le ombre per esempio e non è nero quindi io il nero il bianco nell'acquarello non lo uso molto spesso non lo uso volentieri e quindi mi fa piacere avere un colore diverso dal nero mentre aspetto che si asciughino già vedo che come moltissimi blu oltremare sto notando che fa granulazione ne vedo un po anche in questo english red e stanno iniziando a comparire anche per il verde oliva dato che ho deciso di comprarli al posto del set di windsor e newton che praticamente è finito mi sembra giusto fare un paragone con le prove di colore che feci all'epoca proprio sul set con il set windsor e newton e devo dire che vedo un po di similitudini vedo che ci sono anche qua due gialli però ne vedo qui nel set di luca su uno freddo è un un po più caldo invece nel set questo della windsor e newton mi sembrano caldi tutti e due anche qui vedo il giallo ocra e poi questo rosso ora non sono non ce l'ha portata di mano il set di windsor e newton però questi due colori questo rosso qua lo chiama rosso di cadmio che in realtà è un arancio li vedo praticamente uguali forse quello di windsor e newton è un po più profondo poi c'è un magenta sinceramente quest'estate mi è mancato un sacco il magenta perché io dipingendo al mare dipingo quello che vedo e mi è mancato molto il magenta perché mi avrebbe fatto piacere averlo ecco ovviamente essendo un primario non si può replicare e quindi sono contenta di avere questo set della lucas poi vedo qua il blu oltremarino che devo dire è uguale lo stesso colore identico anche qui della windsor e newton fa granulazione non so se riuscite a vedere si fa un po di granulazione e anche qui come ho detto questo della lucas fa granulazione poi c'è questo verde che abbiamo detto che un verde verde prato non mi sembra proprio comunque molto molto simile a quest'altro verde della windsor e newton mi sembra un po più trasparente però è una prima impressione questo della lucas e quindi devo dire che questi set sono molto paragonabili l'unica cosa che non mi piace fra questi della lucas e questi della windsor e newton che sto notando l'assenza di un vero e proprio rosso o il magenta ma il rosso mi manca un bel rosso ciliegia diciamo quindi dovrò fare un po di prove per vedere come riuscire a ricavarmelo partendo dal magenta non rimpiango per niente l'assenza del bianco che che in pratica non c'è il bianco nel set della lucas sinceramente non mi mancherà mi ricordavo che ci fosse il nero nel set della windsor e newton invece non ricordo male non c'è e mi fa piacere che ci sia il grigio di pain nel set questo qua della lucas ora non so se a questo punto avrei rinunciato a un verde per metterci un rosso sinceramente un rosso bello scarlato insomma i verdi per quanto siano utili si possono sempre ricreare utilizziamo il set per colorare un po facciamo una cosa semplice perché in effetti io provo 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 i colori ma non ho il tempo di dipingere come devo fare provo il giallo limone e lo uso per fare l'interno dell'avocado sto usando carta in cellulosa poi prendo questo bel verde qui e quando è ancora bello bagnato ci faccio un po il contorno mentre si asciuga ne faccio qualcun altro devo dire che si sfumano da soli non fanno macchie per il momento sono molto soddisfatta sono colori un po power per il momento ma perché li ho messi anche in purezza quanto più si mescolano di solito e più si desaturano voglio provare per il nocciolo questi due colori quindi locra e terra d'ombra naturale il pennello troppo grande assolutamente si cambio pennello ok e provo questo vorrei fare lo sfondo lo voglio fare di un turchese e unisco il verde prato con il ciano ne devo preparare una bella quantità cambio di nuovo pennello vado anche un po sbordando non importa perché si vedrà ben poco una volta che che metterò farò la buccia dell'avocado che è molto scura poi bagno molto i contorni di questa campitura perché vorrei provare a non fare macchie ma posso fare un po di considerazioni l'azzurro questa mescolanza che ho fatto di fondo e è abbastanza omogenea considerate che la carta di cellulosa non è fissata si imbarca un sacco e in pratica questo alone che vedete qua è dovuto proprio alla carta perché si è imbarcata in questo punto e quindi il colore è sceso in quel punto quindi sedimentandosi però si vede più in telecamera che non qui allora il pennellino in dotazione è carino è piccolo però non alla punta tanto appuntita non so se vedete è buona però non eccezionale non ha perso pelli ormai il colore va va e vaga però è colpa mia non è colpa dei colori una volta asciutto questa mescolanza diventa molto meno satura qui sembra quasi grigia quindi prevale moltissimo il grigio di pain ma è un po una caratteristica dell'acquerello che una volta asciutto sia diciamo si schiarisce ma non si è solo schiarito si è molto desaturato è ufficiale devo provare sicuramente questi acquerelli anche su una carta diversa questa è la carta della canson sicuramente non è per uso professionale si allarga un po il colore qua sopra indipendentemente dal fatto se è asciutto o no il pigmento però già da quello che ho visto posso trarre un po di conclusioni alcuni colori sono meno trasparenti di altri però considerate il fatto che io li ho presi direttamente dal godè volevo sapere quanto era pigmentata e quindi sono andata giù pesante con il colore poi vedo che molti fanno granulazione non è detto che sia un difetto dipende da quelli che sono i vostri soggetti sono i due blu questi due verdi ce ne sono diversi che fanno granulazione un po il magenta però di meno rispetto al blu un po questo english red e niente invece i due gialli sono bellissimi anche questo verde questo grigio di penne bellissimo insomma devo fare un po di prove come prima diciamo prova per me approvato anche perché io l'ho trovato in sconto sa una quindicina di euro e costa più o meno come quello della windsor e newton ed è carino ogni tanto cambiare quindi ora cambio in quadratura ora cambio in quadratura per le ultime considerazioni e i saluti allora che cosa ne pensate di questo set sulla confezione non c'è scritto se resistente alla luce io immagino che non lo sia perché comunque è un set studio però per chi vuole esercitarsi mi sembra una bella scelta colore mi dispiace un po che non ci sia il rosso però devo dire me ne farò una ragione sono contenta di averli presi e non vedo l'ora di provarli un po meglio con più tempo se siete arrivati fino a questo punto del video io vi ringrazio vi chiedo di sostenere il canale iscrivendovi attivando la campanellina delle notifiche condividendo commentando e noi ci vediamo al prossimo video ciao